Con questa nuova canna abbiamo cambiato anche tipologia di lenza, costituita non più da un galleggiante strike ma da un galleggiante zoom in line. Il suo corpo affusolato e allungato conferisce al galleggiante stesso maggiore sensibilità in fase di abboccata. Anche lui, esattamente come lo strike in line, è dotato nella parte superiore, nella testa, di una boccola in ottone per preservare le caratteristiche del filo. Questa volta come zavorra, come piombatura, non abbiamo utilizzato un vetrino ma una serie di pallini da 0,20 grammi ciascuno circa, quindi una decina di pallini, 9 per la precisione, per tarare il galleggiante da 2 grammi. Il vantaggio di questa lenza è che si entra in pesca molto più rapidamente e effettuando una piombatura con dei pallini si ha la possibilità con una sola lenza di variare il suo effetto.